colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team bleach e tutto il resto detto questo vai con la intro ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi ci troviamo sul mio desktop con esattezza oggi 16 gennaio 2019 alle 17 52 e 12 secondi 13 ora ci troviamo sul mio desktop per fare cosa ragazzi per fare cosa come avrete letto dal titolo con questo video vi voglio ricordare il contest dei road to 15k che molti di voi sentono all'inizio del video ma non non vanno a vedere molto probabilmente quindi andiamo a vedere insieme di che cosa sto parlando ragazzi quindi apriamo google io ve lo faccio vedere ragazzi sul mio pc insomma vado sul mio canale youtube ragazzi e come molti di voi sapranno lo so ragazzi che c'è diciamo la intro e la pre intro che sono lunghissime però ragazzi sul mio canale c'è questo contest qui ragazzi questo contest qui che è il contest road to 15k allora in questo contest ragazzi diciamo che sì ci sono stati partecipanti ma non sono moltissimi come vedete ci sono 131 commenti anche qualche commento mio e cazzate varie ragazzi quindi non sono moltissimi commenti allora ragazzi in questo contest che vi lascerò in descrizione ok ragazzi in questo contest io andrò a regalare delle cose ma non andrò a regalare il solito account moddato ragazzi ma andrò a regalare bensì farò tre regali tre regali quando arriverò a 15k quindi guardate bene tutto quanto il video per cercare di capire quali sono i regali per cercare di capire come partecipare al contest ragazzi dovete semplicemente lasciare un like a questo video e scrivere partecipare anzi non partecipare ragazzi c'è un hashtag strano ok che dovrete scoprire voi se lasciate questo hashtag e farete tutti quanti i requisiti per partecipare a questo contest potrete vincere un anno di playstation plus un anno di xbox live in più il gioco del mese ragazzi il gioco del mese che cosa significa significa che potrete vincere il gioco che porterò cioè il gioco che uscirà nel mese in cui io arriverò a 15 mila iscritti mettiamo caso che cazzo ne so ragazzi io a giugno arrivo a 15 mila iscritti e a giugno esce GTA 6 utopia è una cazzata però per farvi un esempio io a giugno vi regalerò GTA 6 si esce che cazzo ne so call of duty io a giugno vi regalerò call of duty al primo che ovviamente si qualificherà poi insomma ci sono i vari premi ci sono i vari premi che io andrò a estrarre tramite un sito online per il primo il secondo il terzo classificato quindi voi l'unica cosa che dovete fare ragazzi è venire in questo video in questo video qui e dovete commentare e seguire tutti quanti i requisiti di questo video altrimenti non potrete partecipare a questo contest ragazzi come ho già detto il video è un po vecchio però ho visto che qualcuno se ne dimentica qualcuno diciamo magari schippa i primi 30 40 secondi dei miei video e non sa dell'esistenza di questo video ragazzi quindi ho voluto ricordarvi di questo video ci saranno presto anche altri contest legati al team glitch ragazzi quindi mi raccomando ai nuovi contest e mi raccomando a seguire tutto ragazzi perché comunque cercate di rimanere aggiornati e cercate di sapere tutte le notizie che ci stanno in giro insomma riguardo glitch riguardo contest e riguardo tutto il resto ragazzi come ho già detto il link del contest lo trovate in una descrizione in una qualunque descrizione per esempio questo è il video che io ho portato oggi se andate in descrizione ragazzi ok troverete il link del contest allora questo è il link del contest road to die 15k ragazzi quindi vi basterà cliccare su questo famigerato link automaticamente vi riporterà nel contest guardate il video e cercate di capire quali sono i requisiti per poter partecipare come ho già detto tre premi strepitosi perché un anno di plus un anno di xbox live più il gioco del mese non credo che qualcuno ve lo regali o comunque abbia fatto una cosa del genere su youtube penso di essere il primo a fare questa cosa mi raccomando partecipate in molti detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao belli ciao ciao ciao